Avete bisogno di crediti? Passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile. E con il codice cupon MALATI15 avrete 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Silver dello staff di Noi Malati di FUT e sono qui oggi per portarvi la recensione di Diego Alves second in forma. Alves, giocatore brasiliano del Valencia, a mio parere è un ottimo portiere, mi è molto piaciuto questo giocatore. A mio parere uno dei migliori della Liga BBVA. Questo giocatore si presenta con un 83 di overall, che si divide in un 93 in tuffo, 92 in riflessi, 80 in presa, 55 in velocità, 76 in rinvio e 82 in posizionamento. Diego Alves come portiere ha delle ottime statistiche secondo me, soprattutto per il tuffo e i riflessi, che secondo me oltre che sulla carta sono le sue migliori statistiche in game. Sinceramente provandolo dimostra esattamente quelle statistiche in gioco. Partiamo questa volta dal tuffo. Tuffo che si presenta con un 93 sulla carta, ma che in realtà nel statistico è un 92, combinato con un 84 in elevazione. Il tuffo di Diego Alves a me è molto piaciuto. È sicuramente un pro, infatti i suoi tuffi sono perfetti. Riesce ad allungare le braccia anche sotto l'incrocio quando si tuffa e tirare via il pallone dall'angolino. Infatti ho inserito il tuffo di questo giocatore tra i pro, perché a me è molto piaciuto. Ma ora passiamo ai riflessi. Riflessi che si presentano con un 92 sulla carta e un 92 esattamente nelle statistiche. I riflessi di questo giocatore sono secondo me la sua miglior statistica e anche secondo me il suo miglior pregio. Infatti io l'ho inserito tra i pro assolutamente. Questa grande caratteristica lo rende molto più reattivo e anche se si troverà davanti un attaccante avversario nell'uno contro uno, spesso riuscirà a toccare la palla quel tanto che serve per toglierla dallo specchio della porta. Quindi a mio parere i riflessi di questo giocatore sono fantastici, davvero eccezionali, mi sono molto piaciuti. E perciò ho gli inserito i 3 pro. E ora passiamo alla presa. Presa che si presenta con un 80 sulla carta e combaccia esattamente con un 80 nelle statistiche reali. A mio parere la presa di questo giocatore non è né un pro né un contro. Cioè non dico che non mi è piaciuta, però secondo me è buona, ma ogni tanto pecca. Ovvero, spesso, su dei tiri molto semplici anche, Diego Alves non riesce a prendere la palla tra le braccia, ma la respinge solamente. Perciò, secondo me, non è né un pro né un contro, ma non affermo assolutamente che non mi è piaciuta. Anzi, è molto piaciuta. Quelle prese che ha fatto sono state fantastiche. Ma ora passiamo al rinvio. Rinvio che si presenta con un 76 sulla carta e che combaccia perfettamente con un 76 sulle statistiche reali. Questa statistica non mi è molto piaciuta, non è molto buono, devo dire. Infatti, ogni tanto sui rinvii, Diego Alves sbaglia e rilancia la palla sulla testa dell'avversario. Questa statistica io l'ho definita un contro, anche se secondo me non è proprio un contro, ma è solo una piccola pecca. Infine, passiamo al posizionamento. Posizionamento che si presenta con un 82 sulla carta e che anche questo combaccia perfettamente con le statistiche reali. Anche il posizionamento, a mio parere, è un contro. È vero che è un 82, che è una statistica abbastanza alta, ma spesso a me capitava di trovare Diego Alves impreparato ai tiri, ovvero non lo trovavo in posizione. Lo trovavo spostato di lato rispetto alla posizione giusta e questo penalizzava spesso le parate. Ovviamente questa pecca è riequilibrata dal 93 in tuffo, ma ogni tanto mi capitava di subire gol per questo. Quindi ho dovuto inserirlo tra i contro, anche se secondo me non è un contro ma è sempre una piccola pecca. Quindi concludendo, Diego Alves mi è molto piaciuto. Come voto gli do un 7,5, è uno dei migliori portieri della Liga BBVA, se non il migliore. Assolutamente vi consiglio di provarlo, compratelo se avete i crediti, anche perché è un buon prezzo, ha 50.000 crediti massimo. Concludo qui la mia recensione, spero che vi sia piaciuta. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate dicendo cosa ne pensate di Diego Alves Sif. Qui da Silver è tutto, bella!